Sì, si preparano che le mani preparate Sì, si preparano che stanno in corso di inizia a te Grazie 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 Vince Giorgeni Nicolò Grazie 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 Vincenzo a tutti Grazie 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 Concentrati Vincenzo a tutti Grazie 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 Vai Simone! Viceprimpe stanno alla partitica del mio posto. Vai Simone! Vai! Vai Edo! Vai Edo! Grupe Tanti! Perchè veniva Elena, un'ottima di crisi. Vamo in mia sala! 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 Sììì! Preciso! Vai Edo! Vai Edo! Vivo In mia sala! Vivo in mia sala! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' metto a caldo sulla prestazione. Sono soddisfatto, molto soddisfatto. E glielo ho detto anche prima, sono più contento del secondo incontro che ha vinto, perché è stato molto di testa. L'ha vinto di testa, perché è rimasta concentrata e mi ha ascoltato. Un complimento al maestro. Sono emozionato io, l'intervista Zobby Gold.